Facciamo un punto sulla situazione per quanto riguarda le vaccinazioni Covid-19 sulla provincia di Pescara. Quali sono i dati? I dati sono molto buoni. Abbiamo vaccinato fino ad oggi il 79% della popolazione vaccinabile con la prima dose e il 65% ha effettuato tutte e due le dosi. Quindi sono dati che sono al di sopra della media nazionale. Passato il ferragosto ci sarà sicuramente un'accelerazione. Infatti per la provincia di Pescara il 21 sabato è previsto un open day per le vaccinazioni. Sì, a tal proposito io invito tutti quanti a approfittare di questa data per terminare, possiamo dire, perché oramai siamo veramente alle fasi conclusive della campagna vaccinale, per poter vaccinare le restanti persone che stanno decidendo in questo momento di vaccinarsi. Io invito tutti quanti a vaccinarsi. I giovani stanno rispondendo molto bene alla campagna vaccinale. Devo dire anche i genitori di questi ragazzi che li stanno facendo vaccinare. Abbiamo una piccola fascia di età tra i 60 e i 75 anni che ancora ha qualche titubanza. Spero che nei prossimi giorni queste titubanze possano diminuire e avere più persone vaccinate. Prima di chiudere possiamo dire quali sono le modalità di accesso a questo open day? La modalità di accesso per gli hub di Scafa e di Penne è il sistema poste, la piattaforma di poste, mentre per Montesilvano e Pescara mediante la piattaforma dei rispettivi comuni di Pescara e di Montesilvano. Comunque dalla prossima settimana potranno accedere anche presso l'hub di Pescara senza penultazione dalle 11 alle 13 tutte le persone che vorranno vaccinarsi. Speriamo di superare l'80% sempre della popolazione vaccinabile, cioè l'80% della popolazione che ha più di 12 anni. Penso che questo obiettivo lo raggiungeremo considerato che adesso siamo al 78%, quindi altri 2-3 punti percentuali non penso che ci avremo problemi e quindi avere, speriamo, quell'effetto gregge che tanti si auspicano.